Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua sul mio canale. Oggi farò un video un po' diverso perché sono arrivate le biglie praticamente e a un video, con ogni 15 euro di spesa ve la danno una in omaggio e sono 25 e si chiamano TheFreshEars, sono personagini un po' così da bimbi e io ho trovato certe cose, ho tutto ovviamente, ho anche il sacchettino in puro cotone di FreshEars, se volete sapere presto questo costa 1 euro, 99 centesi, con tutti i personaggi dietro. Il mio problema, qual'è il più grande? Di trovare il drago, il drago è super raro dicono, è 25, ecco, è 25, numero ultimo, poi abbiamo preso anche la biglia, cioè la bucca da gioca e si gioca in due praticamente, una da una parte e una da l'altra e lancia la biglia e vince chi fa più punti che entra dentro, vedete? Dovete avere un po' la forza, vedete? Fantastico! Io ho partito una prima, questa è una melanzana, ecco, melanzana, e ora vedete? ho fatto al centro, perfetto, un punto e così via. Ho trovato anche questa che è la carta con il codice QR dietro, che ci sono due possibilità, o mettete il codice, questo qua, oppure mettete anche il codice QR in un'app, nell'app che ho scaricato nel tavolo, come potete vedere qua a fianco, ce ne ho 17, non le faccio tutte oggi, biglie, farò diverse parti, e ho trovato anche questa carta per tarare qua, sempre codice QR, ma non ho il personaggino per il momento, lo troveremo e lo bloccheremo qui e dopo, che vi spiegherò come funziona, e poi ho preso anche il box da collezione, per metterli dentro e collezionarli tutti, i 25. Oggi ne ho ricevuto un bel po', perché sono andato a fare la spesa, diciamo più o meno, e ho preso due o tre cose, poi c'è un signore davanti a me che me le ha date, 8, 8 addirittura. Io sono stato veramente contento, veramente, e quindi spero di trovare anche il drago, dai, speriamo in tutto, in bene. Allora, ce ne sono 25, come vi ho detto, qua nella scatola troverete la bucca per il gioco, per costruire il vostro abbinito in cartone, io l'ho già predisposto e fatto tutto, ecco. Qua ci sono le 25 biglie da mettere da collezione, qua ci dice di scaricare l'app, ovviamente non includono i personaggi, comunque al leader, quando ci andate, fate i furbi, allora non andate in coppia dei bambini, genitori, eccetera, in persone di certa età, che magari non ha nipoti, non ha nulla, e alla fine fate i furbi, così, se loro non li vogliono, come è successo a me oggi, e soprattutto il sabato, il sabato c'è un sacco, una marea di gente che si va a fare magari a spesa, e come è successo a me, quindi me ne hanno date, e quindi sono stato veramente contento, io sono furba, non sembra, ma sono furba, allora questo è il labirinto, vedete, io l'ho costruito apposta questo percorso così, se va dentro qua lo frego la biglia, proviamo un attimo, vedete, adesso lo metto, se riesco, il telefono dall'alto che vi faccio vedere, è già entrata, che schifo, allora vediamo un attimo, una cosa, oh che bello, ok, perfetto, vedete, non mi ricordo dove deve fare il centro, più o meno, no, comunque sono tutte uguali, non so, più o meno, non mi ricordo, comunque i cartoncini li trovate all'interno dell'accoglitore, quindi li trovate sotto praticamente, adesso vi faccio vedere un attimo, vi faccio vedere, questo è di vetro, questo è di vetro, quindi vi faccio sentire che è di vetro, avete sentito? si è spinta la torsa, si vinta, ok, perfetto, ci sono i cartoncini, vi faccio vedere, vedete? qua mettiamo via un attimo, vi faccio vedere anche l'accoglitore, che li trovate praticamente cartoncino, quindi bisogna mettere a posto qua dentro, quindi fate così, poi, e soprattutto questo cartoncino che c'è il drago, infatti è da solo, è raro, e poi è di un altro colore, adesso un attimo che vi faccio vedere l'app, questa si chiama Lamber, quindi Lamber disegnato bene, e va qua, ognuno ha il suo posto, sono 25, vi faccio vedere, adesso li apro un po', spacchetto tutti, un po' di pacchetti, vediamo 2, 3, 4, non so, ditemi voi, magari, e faccio un'altra parte dopo, e farò diverse parti, ok, questa è un'altra carta che ho trovato per portare, forse ve l'avevo già detto, si, ve l'avevo già detto, che adesso vediamo l'app a proposito, quindi mettiamo questo via, un attimo che dopo si, lo riprendiamo, e vediamo l'app, allora anche qua c'è il percorso, però sono già stati fatti, però lo potete anche trovare voi, qui c'è la storia, la campagna e tutto, adesso vediamo una cosa alla volta, intanto mi dice che c'è una biglia, scusate se non riuscite a vedere, lo metto in posizione per bene, ecco, vedete, qua in alto, dice che c'è una biglia su 25, perché l'ho già sbloccata l'altra, vi faccio vedere come funziona, quindi scannerizzate, scannerizza, ovviamente trova, le carte le tenete, questo codice è già stato utilizzato, ah, non potete, attenzione, usare lo stesso codice, quindi dovete ritrovarlo per un altro codice, è stato utilizzato, sono tutti codici diversi, però possono essere utilizzati minimo una volta, quindi la fregatura è che se, per esempio, trovate uno che ha già quel codice, è impossibile, perché l'ho fatto io, quello lì, quindi è mio, però se, per esempio, il bambino l'aveva trovato e mi avrebbe fatto il codice e io l'aveva copiato, una roba del genere non esisteva, non si possono copiare il problema, allora, 1091 soldi, mi pare, le biglie sono queste, come vi ho fatto vedere, sono tutte queste, fantastici, c'è anche quella nera che non è nulla, anzi, devo sbloccarlo, devo sbloccarlo, un personaggino qualsiasi, andate qua, per esempio, come vi ho fatto vedere, gioca, vedete, gioca, potete fare anche amiciste, non so come, 8 stelle, vedete, qua, re della sabbia, date, facciamo proprio a un livello, io ho fatto 3, 3, cioè 2 qua, 3, facciamo questo da 2, guarda, che è veramente un tempo che dobbiamo battere, dobbiamo fare 11 secondi, vedete la biglia è quella, ho cambiato biglia, scusate se non vi faccio vedere, ma, adesso, vedete, dovete fare in fretta, non dovete, dovete stare attenti, piano piano, con una mano non è semplice, e l'altra tenere il telefono, quindi, allora, andiamo, andiamo, ah caspita, mi son fregato, ok, divertente, dovete andare lì nella vittoria, stella, comunque, adesso la faccio tutta, adesso sto sprecando del tempo, perché fate conto che non è facile con una mano, assolutamente no, ecco, dovete girare il tablet, o il telefono, quello che vuole, io ce l'ho sia nel tablet, ecco perché mi ha detto che quella lì io l'ho sbloccata, perché l'ho sbloccata nel telefono, se aspettavo era meglio, ok, vedete, una stella, uno schifo, però si può rifare, io spingo avanti, faccio vedere altre cose, vediamo gli amici, gli amici, ok, io sono questo, sono il numero del record, 1373 del mondo, ci sono classifiche, però se andiamo a vedere le classifiche, comunque, se volete aggiungetemi, quindi, fate, aggiunge amico, nome giocatore, quindi mettete, o il lead, ah, il mio codice è questo, ecco cosa serviva il codice QR che c'è dentro, infatti, dopo bisogna scansionare il codice del amico, però questo vale con il raccoglietore, se non avete il raccoglietore non potete fare nulla, ok, chiudiamo, va va, e mettiamo via anche questo, il tablet, adesso lo tolgo, perfetto, ottimo, spengo, e andiamo avanti con altri pacchetti delle piglie, questo ho già fatto, e questo, apriamo questo, vediamo cosa trovo, e ho spento, allora, prossimo video, magari faccio questo, e quindi Steve, ho trovato, Steve, fantastico, questo, anche questo, è semplice da trovare, mi sa, però, dopo, nel prossimo video, infatti, scannerisola tutte le carte possibili, qua, intanto, vi faccio vedere questa biglia dettagliata, e prendiamo anche il raccoglietore, dai, ciò che ci siamo, riprendiamo il raccoglietore, quello con, ovviamente, questo è il 2, ho avuto fortuna di trovare il 2, quindi il 2 e il 14 ho trovato, allora, prendiamo il raccoglietore, vedete qua, apriamo altri due pacchetti, e poi buona, quindi siamo arrivati a 4, 5, ce ne sono anche altri due, ok, melanzana, e non zucchina, cioè, questa è la zucchina, una roba di sena, questa è una melanzana, è frutta e verdura, eh, questi qua, allora, la mettiamo praticamente, adesso vi faccio vedere anche la carta, non so come si chiama, adesso vediamo, nella carta, infatti, come si chiama, allora, questo qua, si chiama Donald, 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 eccolo, 16, perfetto, 16 che va qua, ottimo, e apriamo un altro pacchetto e poi, magari un altro ancora, dai, ci divertiamo, questo mi sa che ce lo so, ho brutta pressione che, sì, doppione, è l'amber, è un'altra zucchina, quindi se volete, facciamo scambio, zucchina, adesso non troverò, ovviamente io sono l'unico che non troverò mai il drago, è ovvio, apriamo un altro, dai, altri due, facciamo a 6, andiamo a 6, quindi apriamo un altro pacchetto, arancia, perfetto, frank, freckless, non troverò mai il drago, eh, figurati, freckless, 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 ecco qua, questo qua, che va al numero 10, perfetto, apriamo l'ultimo, quindi apriamo l'ultimo, e questo un altro ancora, blue, mica tanti doppione, blue, è un mirtillo questo qua, e va al numero 19, perfetto, gli altri aprirò nei successivi video, che farò altre 5 parti, 3 o 4, massimo, e niente, quindi vi saluto, ci vediamo al prossimo video, spero di trovare il drago, quindi andiamo a vedere, nel prossimo video, come vi ho detto, sbloccheremo il qr e vedremo anche altre biglie, quindi queste 1, 2, 3, 4, 5 biglie, e sono, ce l'ho, e per i primi pacchetti sono stato veramente contento, a parte un doppione, quindi lo scambiamo, e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e questo è il doppione, mi piace, mettete mi piace, ve lo faccio vedere nel dettaglio, così fate la foto, fate lo screenshot, quello che volete, così lo condividete, ciao, prossimo video, ciao, mettete i commenti qua sotto, commentate, apprendi